Repubblica Biciclette con Manuel Senti Manuel, e neanche tutto ti dobbiamo chiedere scuso per questo giorno del Giro d'Italia abbiamo parlato di un Romagnolo un Romagnolo al Viaggio d'Italia, vantiamo tutti che si sta ben comportando, non è la Tarangoni ma con i passatori giovani che è il Giro d'Italia e non è il Giro d'Italia, non è il Giro d'Italia Cesenatico Cesenatico, quindi conosci l'hotel Gambrinus conosci il bagno Mario, è roba tua allora, presentati, dove sei forte? io sono scalatore, e basta ma come nasce uno scalatore a Cesenatico? è una cosa che io tuttora non ci credo ma perché tu nasci scalatore? dove ti alleni? qual è la tua montagna? perché noi partiamo dal basso, siamo a livello del mare quindi c'è solo da andare in su e quindi bisogna essere scalatori il Carpegna è il tuo qual è il tuo tempo sul Carpegna? diamoni una dritta per i ciclo amatori che ci seguono non ho mai provato sinceramente a prendere tempo sul Carpegna però adesso proverò qual è la tappa che ti sei segnata in rosso sul Giro d'Italia? innanzitutto sappiamo che tu lavori moltissimo per la squadra però se dovessi sceglierne una mi piacerebbe vedere l'ultima settimana le tappe dormitiche una di quelle, anche se non escludo che quella di bagno è interessante e beh insomma, quella è casa tua esatto meglio i quattro passi o lo Stelvio per Emanuele Senni? lo Stelvio? lo Stelvio, quindi salite lunghe 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 quanto ci metti più o meno a fare lo Stelvio? ma ho provato, anno scorso sono stato su parecchio allenarmi quindi il mio tempo migliore è intorno all'ora dopo allora, io ci ho messo 5 ore e mezza ma sono categorie differenti, io categorie parcioni vuoi salutare tutti gli amici della Repubblica Biciclette che seguono la Romagna? un saluto da Emanuele a tutta la Romagna e anche a Matteo che ci ha segnalato esatto lo vuoi fare anche in romagnolo, dai dialetto un saluto a tutti grazie Matteo go 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 a tutta